DASIöst Tu non puoi anche u Stefani perchè io ho visto loro NO TU NO TU in football NO TU NO TU TU 80 TU 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 I' gentlelato TU Vede Povenino poverino poverino queste crisi durano tanto ora addirittura un giorno c'è stato un periodo che è durato due giorni addirittura quando non aveva parlato che fortuna proprio lo dice a me lo dice quando potrò parlargli superato lo shock poi vedremo va bene, allora aspetteremo d'altro anno voglio prima accertare due cose allora è il luogo del diritto vediamo ok mi dovrebbe fare un piccolo favore sono qua mi chiami Volpetti magari ho preso le informazioni che gli avevo chiesto Volpetti è l'assistente di nome e non di fatto vado a chiamare grazie prego Volpetti la cerchi con l'estate prego che mi puoi che finezza proprio si vabbè con l'intenzione di arrivare qua eh no ma da Niccolò Stanzi di assistenza ma lui credo si porta a casa un souvenir vediamo la sedia è nella scena del crimine quindi non posso lanciargli al mercato ha trovato qualcosa forse le sue impro più probabile qualche agaro no ha trovato la sedia no ha trovato la sedia è fin qui ci speravo è anche grossa si pensa anche non lo credevo in grado no adesso sono curioso di vedere fino a quanto ci mette vediamo se lei ci ha raggiunto magari lì in fronte no non ce n'è vediamo vediamo Volpetti cosa sta facendo? sto indagando commissario e lo fa guardando con la lente del piccolo detective sui muri cosa spera di trovarci? eh beh le impronte dell'assassino ma se nemmeno sappiamo chi è l'assassino non abbiamo un riscontro di prove come fa a riconoscerle? eh beh per esclusione chi non ha lasciato le impronte è l'assassino voglio sentire gli assassini usano sempre i guanti ogni volta che parlo con lei mi chiedo come lei sia potuta entrare nella polizia investigativa è elementare commissario facendo regolare domande di assunzione e partecipando al concorso lasciamo perdere che è meglio Volpetti piuttosto mi dica quanto ha scoperto beh innanzitutto che le freglie sono molto carine gli volendo anche le pazienti non sono poi così ma lei scemo sei nato o è stato un trauma post natale no no aspetta mi faccia pensare vediamo Volpetti sei allenato per anni per arrivare a questi risultati mi puoi dare dei dati utili alle indagini non me ne frega niente ho dei suoi desideri eratici impecinto ma come? a che talvolta i particolari contano? non quei particolari dannazione vada avanti con la relazione per favore allora questo posto è una clinica privata per cure mentale mi sono ospitato in famiglie membri di famiglie con faviente ci sono attualmente 5 malati singoli cioè 3 uomini e 2 donne poi c'è un compagno di danza che viene a provare solo di sera credo ma un punto che non mi è chiaro uno? uno solo è il punto che non le è chiaro? beh no in effetti ho molti dubbi il mio avviso dice che dipende dal fatto che non sono mai stato giustamente considerato per i miei meriti sa cosa penso di lei Volpetti? dico lei dovrebbe approfittare di questo caso per farsi infernare un bel elettroshock la gioverebbe penso noi stiamo svolgendo ogni dati se non vuole cliccare in quell'unico neurone marcio a dirla così inizia anche a fare un po' schifo certamente capo è che solo per un attimo ho pensato che lei si volesse preoccupare delle mie condizioni sa non ho una vita a fare Volpetti per favore ok va bene va bene va bene poi ci sono i dipendenti il direttore e me buon anno il vice direttore è che mi dicono essere un tipo un po' strappo vediamo se la capisce Volpetti a me il vice direttore sembra più uno della famiglia famiglia si si Volpetti vado a provare ti va dice niente si ecco qua l'infermiere è un infermiere poi un'altra cosa il posto è molto grande secondo il dottore della scientifica che ha già esaminato il corpo il direttore è stato ucciso almeno 8 ore fa e non dove è stato trovato oh finalmente dati utili allora vediamo voglio provare a parlare col medico legale lui gli ha dati utili da fornirmi almeno su mi dia il numero subito su mi dia il numero subito mi ha messo in attesa adesso la canzoncina devo chiedere un caffè? subito so la delle scarpe provi e lo fa veramente ma non c'è niente eh immaginavo allora perchè me lo chiede? non c'è niente mi trovi il numero dannazione subito ah si eccolo qua si si allora 392 392 34 4 76 114 proviamo pronto si sono il commissario ah si sentiamo sentiamo sembra interessante mmm ma va bella economico però ebbè 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 va bene si riferirò salve salve tanto un piacere ah bello va a ricominciare vabbè divenga qui non si fanno qua si ripeto una piccola curiosità secondo lei perché mi ha risposto Samantha la donna di fuoco della prima b si 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 eh vabbè devo aver sbagliato numero ma no è vero è il detective eh muo io trovo nelle mutande ma non c'è niente qui si ma anche io stare zitto però eh devo ricordarmi che non gli posso sparare non gli posso sparare ah si eccolo qua eh speriamo bene eh sclarabella grazie speriamo bene sì pronto sono commissario anglosi salve niente volevo alcuni chiarimenti sul crimine se lei o meno può dare sì l'aspetto qui sul luogo del ritrovamento perfetto sale volpetti lei intanto va davanti con la relazione ah ma veramente avrei finito anche se avevo l'impressione di aver dimenticato qualcosa solo l'impressione buongiorno devo farmi coraggio tanto coraggio buongiorno buongiorno Quali sono i dati utili che lei può fornirmi? IADU! MEN IST! E DAAAR! SI-ZI-MU-SCHT! Non capisco la mia teco! Nemmeno io capisco! Strana Polizia! Ora, ditemi se è possibile lavorare con due simili collaboratori. Un deficiente. E questo accidente di dottore che parla tedesco, lingua di cui non capisco nulla, e si parla solo col catarro. Devo rifarmi coraggio. Dica pure! Per favore, signore. Siccome siamo in Italia, non per essere scortesa, potrebbe parlare italiano? Io parlo molto per gli italiani. E ogni tanto ricorda mia grande patria, grande Germania. Poi! RAUS! DACHE! E' pazzo questo! Non si droga almeno. Uno, due... Eh, questi li stanno veramente bene! Nein, vedo un tubo! Faccio senza! Tanto feto finisse! Tanto feto finisse! Dunque! L'uomo è stato ucciso per soffocamento! L'aridità degli altri fa capire che lui è morto dopo circa, anzi, morto otto ore fa! Un'ematoma fa capire che è stato colpito alla nuca con un certo contundente! Poi, dopo che lui è morto, soffocato, è stato posto in quella strana postura! Per essere più preciso, dovrò procedere allo sforzamento delle caratteristiche! Lancia! Ti metti un'ansia quando parla? Ricora! Ho la pistola! Dottore Ma! Floss! L'immobile, no! Topolino, scusate! Cioè, sforzamento, non sarebbe più corretto dire autopsia! Ya! Ma sempre sforzamento, Easter! Questa! 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 Questo posto è molto grande, sembra un labirinto. Per visitarla ci vorrebbe proprio una guida. Molto grande, guida. Questa volta colpiti stranamente, questa volta mi ha provvedato... Stratto adesso, stranamente mi ha dato un'idea. Strana, perché non ne ha di suo, figuriamoci, ha dato agli altri. Però questa volta sì, ci è riuscito. Allora, il posto è molto grande, perfetto, visiterò questo posto con il vice direttore. Allora, ai pazienti diremo che sono anch'io un amico. Oh, sicuro? Vabbè, vabbè, con quella faccia, per favore. Poi Pippo, Sarravi. L'ultimo numero, un tepponino. No. Dicevo che ai pazienti diremo che sono anch'io un amico, farei un giro, così posso fare le domande senza disturbare troppo. Lei si occuperà del personale. Ho fatto proprio un bel piano. Sì, vada pure. Ah, per favore, mi chiami il vice direttore. Oh, certo, commissario. Ah, dica anche agli agenti della scientifica di acquisire tutto l'edificio nei minimi dettagli. Va bene. Sì, sono bravo. Un omicidio qui? Ma è terribile. Sì, io sono ancora del tutto sconvolta. Sì, come io... Non posso capire com'è? Non so. Buongiorno. Buongiorno. Lasciate che mi permetti. Mi chiamo Volpetti. James Volpetti. Devo solo farmi un paio di domande. Questa è davvero una dinamica dei fatti. Questo è successo durante l'amicizia del direttore, insomma. Sì, sì, ma faccia pure tutte le domande di cui hai bisogno. Noi siamo qui per feste. Ok, perfetto. Allora cominciamo subito. La prima domanda è per scontata, ma è necessario. Allora, dove eravate cosa stavate facendo al momento di domicilio? Oh, io ero in cucina per fare il pranzo. E io mi stavo occupando di ripare le camere. Qualcuno può confermare? No, purtroppo. Quel giorno qui non c'era nessun altro, oltre a noi infermieri e ai pazienti. E il direttore? E l'assassino. Va bene. E il vostro collega dov'era? Oh, era il giardino. Stava controlando i pazienti durante la non uscita. Ok, parliamo invece qua della vittima. Che persona era il direttore? Qualcuno avrebbe avuto un motivo per ucciderlo? No, era una persona sempre buona e disponibile con tutti. Secondo me non c'erano validi motivi. Sì, io non capisco proprio come avrebbero potuto farlo. Giù, via, non piaga. Adesso abbiamo finito. Poi, se avremo bisogno di voi in futuro, vi chiameremo. Fate pure entrare il vostro collega. Grazie. Buongiorno, ispettore. Dica pure. Mi dica lei piuttosto. Dovere cosa sta facendo al momento dell'omicidio del direttore? Allora, al momento dell'omicidio... Ah, sì, ero fuori con i pazienti per controllarmi, sa. Quando a un certo punto uno di loro ha avuto una crisi e mentre lo stavo assistendo, gli altri sono entrati nella sala a tanzo. Quando poi sono tornato, mi sono tolto che mancava un tonico. Così sono andato a cercarmi di mangiù. E qualcuno lo può confermare? Ah, beh, sì, paziente. Sì, 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 ho capito, ho capito. E invece le sue colleghi dove erano? Ah, se non sbaglio, Berti aveva il turno nelle camere. In cucina. Sì, in cucina. Mentre Gianna, nelle camere. E i rapporti col direttore, con i dipendenti e con i pazienti, com'erano? Ah, beh, con noi dipendenti niente da dire. Anzi, era molto disponibile. Al contrario, alcuni pazienti ce l'avevano con lui. Soprattutto Lisa. Lo incolpava... Era causato la morte di suo figlio. Ma che le sappia, si tratta delle cose fondate? Ma è soltanto che la morte del figlio era spostata al punto da farla diventare una sua paziente. Bene, grazie di tutto. Può tornare pure le sue mansioni, ma... Non lasci il paese. Lei è caduta in gravi contraddizioni. E quali liti, grazie? No, no, non sono tenuto di ieri, le domande faccio io. Vada, vada pure. Le dico tutto quanto, come stanno le cose, e dato che lei è vice direttore, da quanto poi le dirò, ho capito che lei non è più tra i sospettati. Sì, bello, bello. Sempre più sconcertato. Comunque, gli indizi sono... Il fazzoletto... Il fazzoletto... Usato... La... La... I capelli colorati... Il capello colorato... Dello spagolo particolare... A partevane... A sale... Partevola... Parliamo nella sua lingua, ma... Quella che può essere definita... Vernice blu... Vernice blu... Proprio il tuo. Poi, il paziente è sul luogo del ritrovamento... Poi, mi sembra... Andorre, sì. Ok, perfetto. Era sotto sciocco, almeno così sembrava. Era sotto sciocco. Comunque, qua il modo in cui il direttore è stato ucciso, in quanto lei è fermato sulle spalle e le braccia lussate, lo escludo. Non può averlo sollevato? Niente di niente. Vediamo. Lei, come dicevo prima, non può essere, perché ho verificato, stava parlando con i ragazzi del corpo di ballo, poi vedremo. Sì. Però ci sono... tutti quanti gli altri. Eh... No, devo fare altre domande, soprattutto i pazienti. Devo fargli qualche domanda. Come stai, ho... Non c'ho un problema. Eh... Le sparo a un piede. Vabbè, non lo sto... Vabbè, non lo sto... Vabbè, non lo sto a distanza, così è più contento. Capisci? C'ho un problema. I pazienti fanno parte di famiglie... Capisci? Capisco. Anche se non fossero... Eh, per favore, non mi distraga. Eh... Anche se non fossero le famiglie... Eh... Per le loro patologie non si potrebbero interrogare. Come reagirebbe un interrogatore così su due piedi? L'esempio calza pennelli. Un secondo su. Ecco. Viene? Sì, commissario. Ho provato a far acquisire tutte le sfunture, ma non abbiamo trovato niente di significativo. Comunque, ho provato a far scrivere tutto su questo. Questo fa proprio la struttura delle cose. Come, come, come? Cosa cosa fa? Un bottone. Sì. Nell'armadio del direttore. Nell'armadio del direttore. Sì. Bene, bene. Perfetto. Ti ricopio. Ok. E' parola. Capisci. Mi è venuta un'idea. Che idea? Allora. Adesso io dovrei visitare questo edificio facendo poi domande ai pazienti, giusto? Giusto, giusto. Lei diceva che potrebbero esserci dei problemi. Sì. Quindi lei mi farà da cicerone. C-cice che? O fuori. Parlo come parlo io. Da guida. Ah, ora sì che ci capiamo. Sì, però ho un vocabolario di tre parole. I cui mizzi. Comunque, lei dirà ai pazienti che sono anch'io un amico. Così non ci saranno troppi problemi. E se ad esempio ci dicesse che... Lei è un mondo di famiglia? No! No, no, lei non ci piace. No, no, va benissimo. Un amico. E guardiamo. Questo mi fa licenziare. Sì. Ah, direttore. E niente, io la volevo ringraziare per il giusto rispetto che sta dando la nostra casa figura. Lei mi ringrazia veramente tanto, dal profondo del cuore. Sì, sì, va bene, mi accompaghi. E però... Ti sei ripresa a me un po' questo bacio. Un colpo veramente. Salve signore, disturbo? No, lei è sempre meno accetto. Come la Marte Verata sui denti. Oh, davvero? Anche mi glielo bene con voi, ma... Non è un altro motivo della mia visita. Vuoi separarmi di Enrico. Oh, sì, sì. Enrico è uno dei pazienti meno problematici che abbiamo. Beh, eccezionfatta per quando gli si dice che non è un raffreddore. Enrico, infatti, crede di essere perennemente raffreddato. Per questo motivo va sempre in giro con tantissimi fazzoletti di stoffa per soffiarsi il naso continuamente. Guarda che il fazzoletto che usa è sempre lo stesso. Non se ne separa mai. Probabilmente ha un qualche legame affettivo con quel fazzoletto. Anche se non ce l'ha mai detto. E il suo rapporto con il direttore? Ma, nella norma. Anzi, pensandoci bene, quando si vedevano scherzavano sempre. Ok, grazie mille, però basta così. Non so che a cui faresti rimanessi qua, ma il lavoro chiama. Beh, vado pure. Capiteremo anche i sentiti di lei. Ah, Bolpetti. Venga qui. Ah, sì, dica. Su, mi dica quanto l'ho scoperto fino ad ora. Beh, nel secondo te le due infermieri sono molto carine. Ho dei sospetti sull'infermiera. E dunque è innocente, perché se ha dei sospetti lei. Mi dia dati utili. Ho saputo che Enrico è innamorato di un fazzoletto. Tutto qua. Tutto qua. E cos'altro? Beh, dicono che è una persona tranquilla. E che l'unico problema che pensa di avere sempre è il raffreddore. Per questo si soffre in continuazione il naso. E porta con sé sempre un fazzoletto, di come ti dicevo prima, è innamorato. E non se ne separa mai. Non se ne separa mai? Ma è la vera schifezza. Quindi, se non se ne separa mai, non può essere lui l'assassino. Già, altrimenti andrebbe a cercare il suo fazzoletto. a cercare il suo fazzoletto. Mi piacevo. Mi piacevo. Tolga il mica. Sì, va bene, Polpetti, vada pure avanti. Vada pure avanti. Ah. Ok. Comandica pochi. Buongiorno. Vai. Sento qua. Dovrebbe accompagnarmi. Vediamo, adesso vorrei vedere la stanza del delitto, sì. Stanza del delitto, stanza del delitto. Ci sono. Le sepe. Ho un po' paura. Siamo arrivati? Non credo, non c'è scritto delitto. Eh. Sì.